Ciao a tutti, questo è il nuovo tutorial i capelli un po' pazzi oggi è carnavale oggi sono il 9 febbraio 2016 ora è 16.22 piove i ciwi pelle là che dormono questo è il make up che ho mettuto sul momento si si un po' strambo lo so lo so ma è carnavale quindi faccio quello che mi pare ora vi aspetto per il tutorial e al prossimo video ciao ciao a tutti oggi è un nuovo tutorial oggi è carnavale 9 febbraio molti l'hanno fristeggiato prima no iniziamo con la make up di carnevale vediamo se riusciamo a farlo sentite sotto il fondo di cibo va che corrono perché mangiano fuori le stappole pioendo quindi le luci sono più scure quindi ho usato la cimi specchio e le luci della casa fredda, mezza calda iniziamo me ne ho piatto sempre il numero 8 di Ellipse ok usiamo la palette di Neve Cosmetics proprio utilizzata per l'acquavoleno che si chiama Antesis prima che ho sbagliato a volte il nome il frigorifero iniziamo prendiamo il blu vogliamo mettere tutta la palpa blu mobile ho già fatto la base del correttore grazie a tutti grazie a tutti Grazie. Grazie. Andiamo in viola. Grazie. Non importa se andiamo colorando anche le soppacciglie perché è quello che faremo. Grazie. Grazie. Prendiamo il pennello sfumato al C14, piccolino. Assumiamo un pochino. Prendiamo il pennello sfumato. Prendiamo l'acqua marina. Prendiamo il pennello sfumato. 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 e lo pietto Grazie. 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 Prendiamo il pennello D5. Chiancolato. Non si vede molto. Grazie. 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 un NO8 di Ovo. o Grazie. Poi prendiamo la palette di Palafi da In The Collection, c'è solo questa. Prendiamo il bianco. 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 wow questa è una maschera di cannavale è mica una maschera che cosa ecco qua Luca è finito strambo prima che mi ha luce poi questo video è tutto ci vediamo nel prossimo tutorial che sarà quello di San Valentino quindi finisco e vado a farlo subito mi strucco e vado a fare quello di San Valentino ciao ciao a tutti benvenuti al nuovo tutorial questo è il tutorial di aiuto